Salve e bentornati a Incipit. Oggi parliamo di uno scrittore italiano straordinario, secondo me, poco conosciuto oggi ma che ha avuto un grande successo, Dino Buzzati. Il libro si chiama Il deserto dei tartari ed è un libro molto particolare, come d'altronde erano particolari tutti i romanzi di Dino Buzzati. Narra la storia di questo Giovanni Drogo, un giovane tenente, che viene mandato a una fortezza, la Fortezza Bastiani, che è lì al limitale di una zona desertica in un posto non ben identificato geograficamente, ma anche tutta la storia non è ben identificata per quanto riguarda non solo la geografia, ma anche l'epoca in cui dovrebbe essere ambientata. Giovanni Drogo, questo giovane tenente, viene mandato alla Fortezza di fronte a un deserto, un tratto desertico si sperde a vista d'occhio, il cosiddetto deserto dei tartari perché dicono che una volta i tartari passavano di là. Loro devono stare in questa fortezza a fare la guardia, a fare la sentinella affinché, nell'eventualità di un attacco nemico, loro potessero dare l'allarme e nello stesso tempo arginare le forze nemiche. in tutti gli anni in cui Giovanni Drogo si troverà nella Fortezza, che non riuscirà più a lasciare, non si spiega neanche lui perché, naturalmente non arriva nessuno, ma da un certo punto in poi non vi racconto altro perché il libro è veramente gustoso, ha uno stile un po' paradossale come è lo stile degli scritti di Buzzati. Andiamo a leggere l'incipit. Nominato ufficiale, Giovanni Drogo partì una mattina di settembre dalla città per raggiungere la Fortezza Bastiani, sua prima destinazione. Si fece svegliare che era ancora le nove e vestì per la prima volta la divisa di tenente. Come ebbe finito, al lume di una lampada a petrolio si guardò allo specchio, ma senza trovare la letizia che aveva sperato. Nella casa c'era un grande silenzio. Ciudevano solo piccoli rumori da una stanza vicina. Sua mamma stava alzandosi per salutarlo. Era quello il giorno atteso da anni, il principio della sua vera vita. Pensava alle giornate squallide all'Accademia Militare. Si ricordò delle amare serie di studio, quando sentiva fuori nelle vie passare la gente libera e presumibilmente felice. Delle sveglie invernali nei cameroni gelati, dove ristagnava all'incubo delle punizioni. Ricordò la pena di contare i giorni a uno a uno, che sembrava non finissero mai. Adesso era finalmente ufficiale. Non aveva più da consumarsi i suoi libri, né da tremare alla voce del sergente. Eppure tutto questo era passato. Tutti quei giorni che gli erano sembrati odiosi, si erano ormai consumati per sempre, formando mesi e anni che non si sarebbero ripetuti mai. Sì, adesso egli era ufficiale e avrebbe avuto soldi, le belle donne lo avrebbero forse guardato, ma in fondo, si accorse Giovanni Drogo, il tempo migliore, la prima giovinezza, era probabilmente finito. Così Drogo fissava lo specchio, vedeva uno stentato sorriso sul proprio volto che in vano aveva cercato di amare. Che cosa senza senso? Perché non riusciva a sorridere con la doverosa spensieratezza mentre salutava la madre? Perché non badava neppure alle sue ultime raccomandazioni e arrivava soltanto a percepire il suono di quella voce così familiare e umano? Perché girava per la camera con inconcludente nervosismo senza riuscire a trovare l'orologio, il frustino, il berretto che pure si trovavano al loro posto giusto? Non partiva certo per la guerra. Decine di tenenti come lui, i suoi vecchi compagni lasciavano a quella stessa ora la casa paterna fra allegre risate come se andassero a una festa. Perché non gli uscivano dalla bocca per la madre che frasi generiche vuote di senso invece che affettuose e tranquillanti parole. L'amarezza di lasciare per la prima volta la vecchia casa, dove era nato alle speranze, i timori che porta con sé ogni mutamento, la commozione di salutare la mamma, gli riempivano sì l'animo, ma su tutto ciò gravava un insistente pensiero che non gli riusciva ad identificare come un vago presentimento di cose fatali, quasi egli stesse per cominciare un viaggio senza ritorno. In effetti sembra proprio un viaggio senza ritorno quello che farà il giovane tenente verso la fortezza a guardare questo deserto dove non succede mai nulla, ma lui come il lettore si troverà piano piano preso in una ragnatela da cui poi non riuscirà più a liberarsi. Riconsiglio vivamente la lettura Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. A presto. Ciao, sono Stefano Mondini e questo è il mio canale YouTube. Puoi iscriverti premendo il pulsante con sopra la mia faccia, così potrai sempre essere aggiornato su tutto quello che pubblicherò. Inoltre sarei ben felice se tu commentassi e mi dessi suggerimenti. A presto.